buona serata mi trovo qua a milano in zona fiera come puoi vedere temperatura oggi è stata mitissima eravamo intorno ai 20 gradi oggi pomeriggio sembrava primavera e come puoi vedere anche stasera le temperature qua a milano sono decisamente miti infatti siamo ancora sui 17 gradi come puoi vedere qua li trovo proprio in zona fiera infatti vedi che ci sono un po di grattacieli e niente allora che a questo punto tramonto ecco qua adesso sto sto mi sto recando appunto qua in zona fiera milano ci sono vedi come puoi vedere i grattacieli delle assicurazioni alleanze generali eccetera eccetera tutte queste cose qua e non c'è molta gente in giro ma la temperatura di garantisco che è mitissima pensiamo sempre intorno ai 15 gradi e oggi veramente avevo caldo avevo caldo in camicia attrezzo sull'add comunque sia da da milano zona fiera per il momento è tutto ti auguro una buona serata